Più segnalazioni da parte di cittadini residenti che lamentavano dei strani movimenti e dei forti odori provenienti da questo locale in zona Saione. Queste le segnalazioni di alcuni residenti della zona che hanno portato alla blizza della polizia locale di Arezzo che si è concluso con la chiusura di un locale etnico. Gli agenti hanno infatti riscontrato numerose irregolarità dai cibi scaduti o conservati male agli alcolici di dubbia provenienza e senza sigillo del monopolio ma soprattutto l'assenza di acqua corrente. Il locale di via Nazario Sauro da oltre un anno aveva infatti i rubinetti chiusi da qui gli odori nauseabondi. Passando di qui la maggior parte delle volte c'erano odori purtroppo come odori di pipì, odori anche comunque si sentiva di prodotti avariati. In totale sono stati così sequestrati quattro scatoloni di genere alimentari conservati in modo spaiato per un totale di circa un quintale di alimenti. Soprattutto una grande quantità di alimentari, soprattutto pesce senza etichettatura e varie altre scatolame varie e alimentari sfusi privi delle indicazioni della provenienza. Abbiamo accettato che chiaramente non vi era acqua corrente nel locale e poi abbiamo anche identificato i soggetti che erano all'interno del locale e all'esterno dello stesso. Non è la prima volta che questa strada finisce nel mirino delle forze dell'ordine. Già nel 2018 il locale era stato chiuso per altre irregolarità. Adesso la sala cinesca del negozio è stata nuovamente abbassata. Non può riprendere l'attività fino a che non si sarà regolarizzata con l'acqua corrente, con il ripristino dell'acqua corrente.